E' stata nuovamente rinviata, adatta da destinarsi, la riunione di Coop Altogarda, prevista per discutere il nuovo contratto integrativo dei dipendenti. Con una nota, la direttrice Arianna Comencini ha comunicato ai rappresentanti dei lavoratori che l'azienda è costretta a rimandare l'incontro adatta da destinarsi in quanto non è riuscita a preparare un'elaborazione di quanto discusso nelle riunioni e a condividerla preliminariamente con gli organi della cooperativa. La risposta del sindacato non si è fatta attendere. Nell'ultima riunione ci è stato detto che c'era il mandato del CDA a concordare una possibile soluzione. Ora, all'ultimo momento, ci comunicano che non hanno potuto approfondire e condividere preliminariamente con il CDA. Osserva Mirko Carotta della CGL. La cosa non è corretta, oppure non ci è stata detta la verità. Con questi metodi di relazioni non si va lontano. C'è un'incapacità di gestione nelle relazioni sindacali stesse. Dura anche la presa di posizione dell'ex direttore di Coop Altogarda, Franco Bertoldi, uno dei soci fondatori della cooperativa. Già presidente e consigliere d'amministrazione, capo negozio e direttore generale dal 1975 al 2012. La cooperativa l'ho vista nascere, crescere, svilupparsi fino ad arrivare ad oggi, dice. Ho legato la mia vita a doppio filo al progetto Coop. Ho avuto la fortuna di poter sempre contare su entusiasmo e capacità di amministratori, collaboratori e specialmente del personale. L'ex direttore generale di Coop Altogarda esprime poi una forte preoccupazione sull'assetto economico. Pare che il bilancio 2016 chiuda con una perdita record. Ricordo che fino al 2012 venivano realizzati utili da qualche centinaio di migliaia di euro. 560 mila di utili presentato all'Assemblea del 2010. A pari condizioni di concorrenti, con lo stesso personale, stessi capi negozio e stessi assistenti commerciali con gli stessi margini. La conclusione di Bertoldi è quasi scontata. Mi auguro che i dipendenti, che sono stati il nostro motore per 40 anni, non subiscano a senso unico tutte le scelte sbagliate, perché è da loro che passa tutto, è da loro che parte tutto il processo cooperativo. Le scelte sbagliate, conclude l'ex direttore generale, devono essere pagate da chi le ha fatte, in primis la presidente Chiara Maino e la vicepresidente Claudia Angelini.